Nuova seduta della consulta comunale per i problemi dei disabili a Battipaia. Istituita lo scorso mese di dicembre, la consulta viverà un momento di confronto giovedì 5 aprile alle 15.30 presso Palazzo di Città, all'interno della Sala Giunta. Sarà affrontato, insieme all'Associazione dei Commercianti operanti sul territorio battipaiese, il tema delle barriere architettoniche presenti all'ingresso dei locali commerciali. La consulta presieduta da Anna Bruno vede al suo interno anche il consigliere Rossella Speranza per la maggioranza e Alessio Cairone per la minoranza, che lavoreranno fianco a fianco con l'assessore Michele Gioia.